Lo sapete com'è nata Highway Star dei Deep Purple? Era il 1971 quando la band si stava dirigendo con il tour bus verso Portsmouth e praticamente è un rapporto che chiede loro ma come fate a fare le canzoni, come fate a comporre? Allora a quel punto Rich Blackmore comincia a fare questo riff di chitarra improvvisato lì sul momento e Ian Gillian comincia a fare una improvvisazione vocale con una linea che più o meno poteva andarci bene beh nel giro di poche ore fanno praticamente la canzone da zero fino alla fine e addirittura quella sera la portano del vivo questo brano finirà poi nel disco Machine Head uscito l'anno dopo insomma una storia importante per capire come a volte anche dei pezzi di storia della musica possono uscire così quasi dal nulla quasi per caso un altro bel music text che vogliamo aggiungere alla nostra collezione un altro bel music text che vogliamo aggiungere alla nostra collezione il nostro canale